Gentili telespettatori, buona giornata. Di Battista alla 7 nel programma di martedì di Floris dice che Meloni politicamente è una cameriera di Bruxelles, di Washington, di Tel Aviv e rispondono a Di Battista, Cattaneo e Totaro. Allora possiamo dire che dato che sulla 7 da Floris e da Formigli i politici di destra non vanno perché i loro partiti glielo impediscono, dicono no tu non ci vai, allora Floris come personaggi di destra in trasmissione non me ne abbiano a male però invita dalle persone che insomma non è che facciano fare poi una grande figura al centro-destra, però visto che nessuno ci vuole andare, i politici hanno il divieto di presentarsi sulla 7 da parte del centro-destra, allora ci vanno non degli politici di centro-destra ma insomma. E così, Giorgia Meloni ha la domanda, ha acquistato credibilità in Europa e nei consessi internazionali? E certo perché si sta comportando politicamente parlando da cameriera di Bruxelles, di Washington e di Tel Aviv. Dice a Di Martedì Alessandro Di Battista, commentando l'apologia che l'ex parlamentare di Fratelli d'Italia, Achille Totaro, in uno scontro con Nardella, fa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a livello europeo e mondiale una credibilità molto elevata. Quindi il fatto che la Meloni abbia una credibilità molto elevata in ambito internazionale è vero, è vero. Questo lo hanno visto tutti, lo vedono tutti. E allora la sinistra o i commentatori, gli opinionisti come Di Battista come fanno ad andare contro a Meloni che doveva secondo queste persone essere isolata totalmente come una specie di piccolo dittatore nascente, invece non è isolata ma ha assolutamente conseguito una credibilità molto elevata. Allora dicono, è credibilità, fa la cameriera, è praticamente la cameriera degli Stati Uniti, dell'Europa, eccetera, eccetera. È evidentemente un discorso abbastanza livoroso, rancoroso, invidioso. Perché? Quindi la Meloni, se è atlantista, è cameriera dell'Europa, cameriera della Nato. Se la Meloni è d'accordo con l'Europa, è la cameriera dell'Europa. Se la Meloni è d'accordo con gli Stati Uniti, è cameriera degli Stati Uniti. Se la Meloni sta a fianco di Israele, è cameriera di Tel Aviv. Quindi avete capito la logica della sinistra livorosa di oggi, che dopo la finanziaria fatta veramente bene, non sa davvero da che parte girarsi? E allora l'accusa qual è? Meloni credibilità in Europa e nel mondo? Eh vabbè, fa la cameriera. Quindi se tu sei d'accordo, sei un cameriere. La teoria è questa. Sei d'accordo con gli Stati Uniti, sei un cameriere. Non sei d'accordo, sei uno veramente o una davvero da stimare. Quindi la stima arriva se tu sei contro gli altri, sei contro i tuoi alleati europei della Nato, sei contro i paesi occidentali. Allora forse non sei cameriere. Però, attenzione, se la Meloni oggi avesse preso delle posizioni diverse dall'Europa, da Washington e da Tel Aviv, oggi sarebbe isolata. Siamo isolati, non ci calcola nessuno. Quindi se oggi la Meloni avesse agito diversamente, come dice Di Battista, da cameriera sarebbe diventata isolata. E oggi Di Battista ci racconterebbe che siamo isolati perché la Meloni di qua e la Meloni di là. Quindi qualsiasi cosa faccia la Meloni, se è d'accordo con gli altri è una cameriera, se non è d'accordo è isolata. Se vedete non c'è un comportamento giusto. Se sei d'accordo cameriere, se non sei d'accordo isolato. E quando è che uno farebbe le cose per bene? Mai. O cameriere o isolato. Quindi non hai una parte, no. Quindi se tu fai in un modo sei un cameriere, se fai in un altro sei isolato. Quindi sbagli sempre. Sempre sbagli. E così ci racconta Di Battista di Martedì che la cameriera Meloni serve ai tavoli in tutto il mondo. E così l'ex deputato 5 Stelle definisce distrazione di massa la protesta di Meloni dei suoi in merito ai conti correnti spiati della Presidente del Consiglio, della sorella. Parla di dossieraggio e sfrutta vicenda perché non ha voglia e non può parlare di questioni enormi dei conflitti internazionali. Non c'entra niente. I conflitti internazionali sono una cosa. I dossieraggi che abbiamo visto in Italia sono un'altra cosa. Ecco, quindi secondo Di Battista la Meloni non dovrebbe parlare di dossieraggi perché se ne parla fa distrazione di massa. Quindi spiano il suo conto corrente della sorella e se lei dice avete visto? Eh no, eh no, eh no, fai distrazione di massa. Già sei cameriera di Bruxelles e degli Stati Uniti. Se poi ti spiano il conto corrente devi stare zitta perché già fai la cameriera quindi stai zitta se ti spiano il conto corrente. Insomma, capite che anche Alessandro Di Battista è entrato nella spirale dell'invidia rancorosa. Quindi la Meloni cerca di sviare l'opinione pubblica perché dice che spiano il suo conto corrente. Ma è vero, certo che è vero. Certo che è vero che spiano il suo conto corrente. E poi, tra l'altro io ho appreso dai giornali che hanno spiato anche i miei conti, dice Di Battista. Ma non ho parlato di dossieraggio perché non c'è nessun dossieraggio. Ah, ne sei sicuro, dibba? Ne sei sicuro, dibba? I magistrati invece sono convinti che ci sia un mandante, pensa un po'. Però tu, per andare contro Meloni, dici che chi spia il tuo conto corrente in realtà era solo un buon tempone che non aveva niente da fare. quindi non si scandalizza di Battista perché spiavano il suo conto. Sì, vabbè, dai, non è dossieraggio, era uno che non sapeva che fare. Quindi non si scandalizza perché scandalizzandosi dovrebbe dare ragione a Giorgia Meloni. Allora, per dar torto a Giorgia Meloni, lui non si scandalizza per quello che è successo sul suo conto corrente. Quindi non c'è nessun dossieraggio. Solo perché la Meloni si lamenta che spiano il suo conto corrente, allora Di Battista, che hanno spiato anche il suo, dice no, 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 non c'è nessun dossieraggio, la Meloni comunque non ha ragione. Addirittura va contro i suoi interessi per andare contro Meloni. E spiega la sua definizione di cameriera della Meloni perché dice è cameriera dei poteri forti. Oggi in Parlamento la sovranista, che invoca sempre la patria, la nazione, le forze armate, parlando di quello che fa Israele, è riuscita a dire queste parole io penso che non si possano considerare accettabili. E a questo punto, dice Di Battista, è una roba patetica. Ti sparano addosso i tuoi alleati, cioè quelli di Israele, che tu hai difeso per un anno e rispondi che non è accettabile. Questo sarebbe il sovranismo della Meloni, beh, io vi posso dire che se fossi il capo del governo adesso su questo prenderei delle posizioni molto ma molto forti. Alleati? E le alleanze possono anche finire. Quando tu ti comporti in un certo modo le alleanze possono anche finire. le alleanze devono essere per sempre? Chi l'ha scritto? Chi l'ha previsto? Il dottore? O l'ideologia oggi dice che se sei di destra devi essere favorevole a uno e se sei di sinistra devi essere contro? Avete visto che i giornali si sono schierati, no? Chi è pro e chi è contro, incasellando anche questo conflitto internazionale nello scaffale di destra o di sinistra, insomma. Siamo arrivati anche a questo punto. Però io se fossi in Meloni prenderei decisioni differenti. Grazie a tutti. Arrivederci a presto.